Quali sono i diversi tipi di trattamento della diarrea cronica? Anche se ci sono vari modi per controllare i sintomi della diarrea, la più comune terapia cronica contro la diarrea include l'eliminazione di cibi che sono noti per causare irritazione. Altre opzioni per controllare il dolore addominale alla diarrea sono la terapia probiotica e i farmaci antidiarroici. Se la diarrea cronica è causata dalla sindrome dell'intestino irritabile, IBS, alcuni farmaci da prescrizione possono aiutare ad alleviare il problema. Prevenire la disidratazione è una priorità nei pazienti che soffrono di diarrea frequente. Un fattore essenziale per il trattamento cronico della diarrea spesso include il reintegro dei liquidi rapidamente per evitare di disidratarsi. Bevande e succhi sportivi contenenti una soluzione elettrolitica possono trattare sintomi associati alla diarrea. Magnesio, potassio, sodio, cloruro e calcio possono essere persi durante frequenti attacchi di diarrea e trovare un modo efficace per reintegrare questi minerali è cruciale per il recupero. Ciò è particolarmente importante nei casi di diarrea pediatrica e diarrea negli anziani. Molte persone trovano che un metodo efficace per il trattamento della diarrea cronica è l'assunzione regolare di probiotici. Questo può essere in forma di supplemento o in alimenti, come lo yogurt, che contengono colture vive e attive. Alcuni pazienti affetti da sindrome dell'intestino irritabile e malattia di Crohn trovano che la terapia probiotica aiuta a mantenere un equilibrio nel tratto digestivo e aiuta a controllare i sintomi di diarrea e riacutizzazioni da varie condizioni. Alcune persone trovano sollievo dalla diarrea usando un farmaco da banco, OTC, noto come anti-diarrea. Questi farmaci, tuttavia, sono pensati per essere usati occasionalmente in caso di diarrea e non sono raccomandati per il trattamento cronico della diarrea. Ciò è particolarmente vero se è presente un'infezione, che può richiedere un trattamento diverso. Un'altra forma di trattamento cronico della diarrea che può aiutare durante una riacutizzazione è seguire quella che è conosciuta come la dieta BRAT. Cosa significa semplicemente? Consumare una dieta blanda come banane, riso, succo di mela e pane tostato secco può accelerare la guarigione e rallentare i sintomi della diarrea in corso. Evitare cibi fritti o grassi consentirà il recupero del tratto intestinale. Eliminare i latticini può anche aiutare a controllare i sintomi. Una pulizia del colen è un altro tipo di trattamento cronico di diarrea. Questo metodo funziona scovando tossine e batteri nocivi presenti nel sistema gastrointestinale. Mentre molte persone credono che questo sia estremamente utile nel trattamento della diarrea cronica, alcuni esperti non sono a favore della pulizia del colen e credono che gli effetti potrebbero essere dannosi in alcuni individui. Si consiglia sempre di consultare un medico prima di sottoporsi a trattamenti non familiari.